Musica Una squadra d'assalto ribelle si è infiltrata in questa stazione da battaglia e si dirige al livello di detenzione per recuperare un troide astromeccanico. Quell'unità contiene informazioni vitali. Non devono farcela. Gli scanner rilevano la principessa Leila nel vostro quadrante. Grazie. La principessa ribelle non causerà altri problemi. Fuochi Jubekka in zona. Terminatelo subito. L'imperatore ha voluto onorarci con la sua presenza. Isolare l'area di detenzione. I ribelli non devono passare. L'imperatore ha voluto. L'imperatore ha voluto. L'imperatore ha voluto. La squadra d'assalto deve essere fermata subito. È qui per rubare un troide che abbiamo preso in custodia. L'imperatore ha voluto. L'imperatore ha voluto. L'imperatore ha voluto. E' un'altra parte. E' un'altra parte. Prendi attenzione! Armate la squadra d'assalto prima che raggiunga l'altra. Vuole fugire insieme al Droginx. Oggi venite ai ribelli di raggiungere Langrach. Vogliono scappare con il droide. Sarò presto l'uomo di fiducia dell'imperatore Altre munizioni Date la caccia ai ribelli Ci vorrà ben altro per sconfiggermi Schiaccerò la ribellione Avanzare! Mettetevi in mezzo e vi distruggerò Mettetevi in mezzo e vi distruggerò Stanate tutti i ribelli Mettetevi in mezzo e vi distruggerò Mettetevi in mezzo e vi da Distruggeteli tutti quanti! Questa ribellione sarà schiacciata. Nessuno sventerà i miei piani! Distruggerò questi ribelli! La mia ambizione è incontenibile! Questi ribelli saranno sistemati! Lanzo una granata! Avanzare! Appagerete cara! Lanzo una granata! Lanzo una granata! Lanzo una granata! L'impero schiaccerà questi ribelli! Lanzo una granata! Lanzo una granata! Lanzo una granata! Per l'impero! Affronterete la mia furia! Lanzo una granata! Lanzo una granata! Lanzo una granata! Il mio posto sarà al fianco dell'imperatore! Annientate i ribelli! Lanzo una granata! Lanzo una granata! Lanzo una granata! Sono qui per vincere! Voglio questi ribelli distrutti! Grazie a tutti!